La barzelletta di Geppo C'è una coppia di giovani che è in procinto di sposarsi Allora un po' di tempo prima del matrimonio Si recano in chiesa e vanno a parlare con il sacerdote Il sacerdote li conosce tutto quanto Allora guardia signori Se volete sposarvi nella mia chiesa però c'è una regola ferrea Allora i ragazzi ci dica Dovete stare un mese senza fare sesso E si invece stanno la storcano un po' la bocca Un mese dopo questi qua ritornano in chiesa per gli ultimi preparativi Quando arrivano il sacerdote li guardano Allora com'è andata? Ce l'avete fatta stare un mese in astinenza? Ragazzi guardi padre noi purtroppo non ci siamo riusciti Capisco e come mai? E niente perché guardi siamo durati tre settimane Ce l'avevamo quasi fatta Poi un giorno la mia ragazza gli è caduto un balattolo di mais per terra Sa sei inchinata E come sei inchinata? Ho capito io fa il prete E allora in questo caso non siete benvenuti nella mia chiesa E il ragazzo gli fa E allora mi sa che non siamo benvenuti manco più al supermercato La sveglia dei gladiatori di dimensione